Si scaldano i motori e si moltiplicano le iniziative in vista dell'edizione 722 della Perdonanza Celestiniana. Il Giubile Aquilano scatterà il 23 agosto e, in concomitanza con l'accensione del Tribode a San Bernardino, il comutato promotore della Perdonanza ha organizzato una notte festante che animerà il centro storico dalla Villa Comunale passando per Piazza Duomo fino alla Fontana Lomenosa, con musica, teatro, danze dal mondo, esibizioni corali, accompagnate dalla degustazione di vini e prodotti tipici del territorio. Il comitato ha inteso porre in essere anche iniziative connesse alla mobilità e alla promozione turistica. Ama attiverà una linea di bussa, appunto la numero 722, che nei giorni della Perdonanza e fino al weekend del jazz, 2, 3 e 4 settembre, collegherà le periferie est e ovest con il centro storico, con corse che, a intervalli di 15 minuti, in momenti di massimo flusso, serviranno alla città dal mattino e fino a tarda sera. Ma attrarre i turisti e, soprattutto, farli rimanere in città è l'obiettivo dei pacchetti lanciati dal Consorzio Albergatorio Aquilani, che si protrarranno anche questi sin dalla Madonna Nazionale di Jazz, prevista per i primi di settembre. È importante farli stare almeno tre giorni sull'Aquila e sul territorio aquilano per stimolare l'indotto che può generare il turista sul territorio. In realtà, da studi statistici, si sa che più del 60% della spesa viene fatta fuori dall'albergo, solo il 40% circa resta in hotel. Quindi ci aspettiamo che nei tre giorni loro possano visitare e approfittare del nostro territorio in termini sia culturali che di offerta di prodotti tipici ed altro, generando un indotto turistico notevole.